ahahah ahah ricordiamola niente a nei commenti mi raccomando e se uno si per sbaglio si chiama A eh vabbè ah ah ma perchè hai pochi punti? perchè non ha ucciso abbastanza bagazzi perchè ho voluto fare la challenge di avere soltanto meno di mille punti ho capito mi sembra un'ottima challenge ho finito le amo dio di... che stolto che stolto se vado a tarmi un cavolo eh cosa hai fatto? ah vabbè non vado più a terra non voglio andare a me a terra per dinci ste vacchi in calore sti vaganti eccolo ma dai quello fa porta si però i vostri sono i tuoi i tuoi sono schiaffetti troppo delicati posso dire una cosa scusate ma perchè non prendetele a lapide mi sembrate la lapide? aspetta un attimo farà che no 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 i vaganti lo uccidano cazzo mi hanno spostato la lapide perchè la lapide scusa? la lapide? perchè? non la usate mai voi la lapide? ma che cazzo serve? madonna di dio ma come... uuuuuh hai un canale di vaganti? eh cosa serve la lapide? si so cosa serve la lapide vaganti si ferma poi dei nomadi si ahahah non so perchè li chiamano così sud o vuoi chiedere io un giorno crescero ooooh 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 più violenti doppi schiaffi doppi schiaffi doppi schiaffi resce li esumatemi oh io e fra siamo vicini caro Jambu vieni da noi eh un attimo temperature temperature ha detto Jambu si ne ha gli schiaffi deve messo peggio basta mamma mia veramente l'ultimo no adesso non posso rianimarvi non posso rianimarvi vai non ci sono i zombie vai non ci sono i zombie te li porto via io bravo hai detto zombie hai detto zombie hai detto zombie anche tu due volte l'ho detto anch'io parola di verbo è uscito da qui è uscito da qui è uscito da qui è uscito da qui io sono uscito a terra no uno è rimasto vivo ok allora Jambu abbiamo detto quella parola due volte a testa io vado in mona non mi rianimate ehm a me si a me si oi devo fare un saluto una mia amica vuole fare un vuole essere salutata certo vai fai il saluto però vai ma cristo però avvicinati bene all'istrof non so chi si sente ok saluto valentina bene valentina ti saluta anche Debe salutiamo Gigi Valentina lì 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 potete essere questi valganti dopo dopo i miei i miei mi chiedono se mi sono pestato tutta sicura fermetemi qui siete morti no io l'avevo tirato su mamma mia veramente c'è chi è rimasto vivo io pensaci tu techi io Zumi ci schiaffeggiamo a vicenda siiii non è il Jugg non è il Jugg non è il Jugg non chiediamo di muore no 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 bravo fra bravo sculato scappa Semi la Jugg la Jugg mamma mia siete delle pitte ah si eh parla quello che è morto e ha preferito lasciarsi andare con la sua lapide c'è una bomba ah se avessi avuto le lapide come me ma questo non non moriscivate eh beh hai superato le 100 kill e non ti sei schiaffeggiato e invece si senti no non si deve schiaffeggiare hai 100 kill ci sono pure i casi gambo ogni 50 minchia non ho ammo non ho ammo è vero ogni 50 oh Debe puoi farti la tua prima cassa è un primo momento vini è un momento da registrare questo finalmente però posso dire faccio la cassa che non ho ammo veloceee aiii Debe non ha fatto uno schiaffo perché non ha quante volte lo stai chiamando Debe 105 non ha uccisi 105 eh l'ho detto ma lui ha detto d'averlo fatto sostiene d'averlo fatto ma io li credo io l'ho sentito eh neanch'io ma la minchia ho il viso rosso sembro un clown anche io c'ho il viso rosso e non ti dico quante volte dovrei ancora andarmi schiaffo loro loro sanno di avere il viso rosso senza essersi osservati da qualche parte che ha mai trovato il metar beh dai non è male non so perché ma ho finito i colpi oh 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 due kill due kill due kill di coltello una due kill di coltello di coltello ok no mi segano mi segano mi segano per pacca panciare bisogna arrivare a 15.000 si 15.000 vai zombie eh mi mancano no 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 ha detto ha detto la parola 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 no ma bema ma da queste regole qua c'è chi siete stati e noi ma dai ma come c'era solo uno prendete la lapide schiaffeggiatino non riesco da solo spara bene e non posso schiaffeggiatino la parola ha detto la parola ha detto la parola no bema ma da queste regole qua qua io devo comunicare con voi susan non è giusto che io non possa dire tutti e tre i vostri nomi a non è corretto oh 5-7 posso fare anch'io fra poco casta minchia uno aspetta 100 kill per farsi una cassa 99 schiaffi 100 uno aspetta 100 kill per farsi la cassa e si becca la 5-7 bella cioè che la 5-7 è utile quasi arriva a 15.000 punti e la paga pancio ragazzi ho un aneddoto un aneddoto importante sulla 5-7 il suo nome contiene due numeri la 57 e la 57 poi è stata una brutta osservazione non ci avevo pensato io a volte so troppe cose ragazzi comunque potete prendervi la lapide no ma perchè non sarò un cazzo è utile vai a terra e non ti rianimo ma perchè perchè si mi stufa di animarvi ma io ho bisogno di amore quindi voglio che mi rianimi esatto allora facciamo che tutti quelli che usano la lapide si devono dar 50 schiaffi ogni volta che muoiono facciamo questa nuova challenge vabbè a proposito la vado a prendo ma da faka ma da faka allora adesso a 200 uccisioni posso fare un'altra cassa che arma hai preso jumbo adesso la sto per andare a fare oh my god rpd rpd deve tu? io ho il matar cioè io sono l'unico sfigato che ha preso la 5-7 ma la 5-7 continua i due numeri e' un segreto che poche persone hanno capito la 69 69 all'altro giorno ragazzi la 619 bravo fra che si da lo schiaffo di verità erano 5 gli schiaffi ma va bene quanti di voi guardavano Rai Misterio? io non hanno 619 però non ascolta le regole no perchè? perchè ci ha dato uno schiaffo solo a 100 e non 5 uuuu male male 3 2 1 più forte io campero qua ancora la prossima volta ci troviamo con una paletta da da ping pong che ci diamo gli schiaffi con quella no con quella per le mosche vi posso dire una cosa? quella deve fare molto molto comunque veramente prendetevi la lapide perchè poi non voglio più ragazzi provi cosa si diventa poi perdete tutte le bibite io voglio tornare su World of War sta arrivando uno zombie mi hanno dato le MP ah ho detto zombie ti hanno dato cosa fra? le MP le MP? beh posso trollarvi beh possiamo addormentare i vaganti rotti nel culo siete scesi eh sono rimasto su da solo ma dai ma dai ma cazzo perchè mi hanno dato la droga no picchia 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 guarda ti tiro su subito perchè son forte si ma io andate in mona a no erano 50 erano 50? ah ok non mi importa sei dato in anticipo si vabbe io sono a posto puoi anche fare incommode rate mensili eh ha bene però con il tasso del 200% beh vale allora non no senza giacchia di dio alla madonna perchè non prendete la lapide ma lo tiro su io che ho quick eh anch'io ce l'ho allora ci penso io vabbè allora fate ammazzare dai bagazzi ma io non so io lo faccio apposta per farvi fare punti si si ma ti capisco ma io non ho sentito i tuoi schiaffi ma come lo so ok forse così no no ma no quante manaccia domani la faccia con un ufficio mi chiedo se sono andato a fare il fight club prima del fight club sono partecipato alle audizioni del fight club 2 noi stiamo giocando veramente di merda sarà meglio tra di jabbo che stranamente sta facendo il pro in questa mappa qui non andrà più a terra fino a quando voi non morirete a fare promesse che non puoi mantenere giuro esattamente sono overpower ragazzi non andrò più a terra no sono a terra sono a terra non ci credo non ci credo non ci credo schiaffoni schiaffoni schiaffi schiaffi ma ti lasci scomparire ogni volta si perché voi siete degli soliti non lo capite giocate meglio da soli si è chiaro finchè abbia gente scarsa in squadra è ovvio che si gioca meglio da soli aumentano solo il numero degli zombie con jambo inutile nooo hai visto intanto io adesso vado su mi piglio le mie guardate prendermi già tutte le vivite ma non lo faccio ah non lo fai bene no no non buono è misericordioso sai che potevo fare lo stronzo lanciare l'mp sul bonus di jambo e fanno scomparire perché non lo hai fatto perché non lo hai fatto lanciare l'mp su che cosa su tomba io trovo che fa scomparire perché non l'hai fatto fra ti prego ti avrei ti avrei ti avrei amato a vita lo faccio la prossima volta che non comprai più la rapide perché se no io fra non sento nulla di sento bene bene jambo non è importante che tu abbia sentito tranquillo tu continua a giocare come hai sempre fatto i vaganti per te sono semplicemente un qualcosa che ho raggiunto le 150 bravo a me ne manca una ne manca una me a me dio merda son per terra ma non c'è no non ce l'ho fatta ma io non devo stare qui a sopportare 150 mi fa malissimo la guaglia ai 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 è problema che dal lato non posso farlo perché c'è il microfono si ma minchia domani la mia ragazza mi guarda mi fa te c'è l'amante e anche chi arriva al 500 deve avere una testata sul monitor no beh sul monitor piano mi chiuso il portatile sul tavolo se vuoi sul tavolo c'è stata raga cercate le amo per favore ma ti posso dire una cosa? non so farò mai di arrivare nel 200 sto giocando qua eh beh comprare la mp5 no no non voglio comunque fratti si sente basso eh non so ma basta che avvicino il microfono si quando lo avvicini si sente bene così va bene eh così va bene si eh così si sento pochi schiaffi io faccio anche gli effetti sonori ok queste facevano male e bastano per 10 no 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 non c'è la parte non è la parte il mio poverino no ti picchio eh se non vieni qua subito ti picchio Giambi muoviti No 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 se mi lasciate scomparire siete una squadra di merda No stavo andando io Bene vi voglio bene grazie Adesso vi ho portato un casino di zombie Cos'è che hai portato? Porco Giuda La prossima volta mi metto qua di fianco un culo Un prosciutto cotto e gli dole sberle a lui Ma perché Debe si deve inventare ogni volta queste No 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 vabbè Perché io non so più come dirvelo Ma una domanda ma la sfida è Andare ai fuggi la pompa o il coltello? No no tornare al teschio normale Zombie io ti giro intorno con gli zombie Ah no questo zombie no Hai due volte questa è doppia Tre volte Tre volte Tre volte No 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 Non lo perderemo più No vabbè C'è la sua C'è la sua lapide No 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 fra per notarmi a terra Per tirarla Per tirarla No no arrivo io arrivo io Eh sti tiro su io e poi lo fai No 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 ragazzi Perché io Sfra è troppo dedicato però Sparò aria compressa Per rialimarvi Vai fra vai fra Vai fai il tuo dovere Fa il culo jambu Dai No Eh vabbè Non scompare la lapide Nooo Io sono vivo ragazzi cosa devo fare Allora Allora Pensa a sopravvivere Lascia i Gira gira Allora vai No 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 non ucciderli Non ucciderli Vai nell'altra casa Dov'è il quick? Vai nell'altra casa vai su Non usccussion Hai detto اذetto Schiaffati 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 Le qui ha detto la parola proibita Vieni vieni Ovvero corri Non andare Rialci arrivati tutti e due insieme No Bravo Sono morturno Io comunque due volte che prendo già che muoio Subito dopo eh Morata veramente E change Troppe volte E mi poteva andare a meter a me Certo Chet che ha invitato выпол Zou Eh Eh chi ha invitato jumbo? io mi sono invitato posso venire? se no lo devo andare a dire a mia mamma eh va bene no comunque tutto questo fuoco ragazzi ma la provata di Debe dobbiamo includerla